Il sole di questa bella mattinata di agosto è il sole che sta baciando la spiaggia dei Bagni Carlo, siamo questa mattina in Sassonia in una struttura dove c'è tutto, non manca davvero nulla, siamo in mezzo due piscine, una l'abbiamo la nostra a sinistra e l'altra più grande l'abbiamo qua con i campi da beach, c'è davvero tutto, tanti tavolini, bar e quant'altro, siamo all'inizio di Viale Adriatico sulla spiaggia di Fano e da questo salottino che abbiamo realizzato questa mattina, alle 7.30 cominciamo la nostra rassegna stampa con i quotidiani che troverete in edicola come sempre e sono i quotidiani il resto del Carlino e il Corriere Adriatico, cominciamo però prima come di consueto con il Santo del Giorno, oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni Battista Vianney, il sole sorto alle 6 e tramonterà alle 20 e 28 minuti, il tempo ancora oggi sarà tempo buono, quindi giornata di mare piena con temperature elevate, poi cambierà il tempo una giornata di venerdì, una giornata di domani, allora cominciamo a vedere i giornali, dicevo la pagina di Pesaro con a centro pagina via Solferino che sarà senza semaforo perché è stata installata la rotatoria, gli automobilisti sono soddisfatti ma questa mini rotatoria, si chiede il giornale, reggerà l'urto, il canone in bolletta invece, il canone della RAI, ci sono errori a raffica, decine di segnalazioni alla Feder Consumatori, fanno pagare il canone della RAI anche alle seconde case e persino ai defunti, mentre una signora, una pensionata di Urbino è stata ricoverata in gravi condizioni perché è stata colpita da un palo che le è caduto in testa, mentre stava guardando dei lavori, i tecnici della Telecom stavano lavorando e purtroppo è successo il fattaccio. Adesso le pagine interne, saltiamo quelle di Pesaro del resto del Carlino e andiamo avanti sulle pagine, l'unica pagina di Pesaro è quella su Fiscopoli, la mazzata su mensali e soci condannati a risarciere 810 mila Euro, la Corte di Conti inizia dunque a presentare il conto per questo scandalo che avvenne il 22 luglio del 2010 quando Beniamino Mensali venne arrestato in flagranza di reato mentre stava intascando una mazzetta di 10 mila Euro da un commercialista che tra l'altro è l'attuale sindaco di Gabiccia, Domenico Pascuzzi e la Corte dei Conti ha condannato Beniamino Mensali, ex segretario della quarta sezione della Commissione Tributaria, Giacomo Perugini, ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Fano e Bruno Venturati, ex giudice tributario ad un mega risarcimento di 810 mila Euro. La pagina di Fano invece, Fano vergogna d'Italia, titolo forte questa mattina sul resto del Carlino per sottolineare una situazione che non piace a chi porta l'handicap con sé ogni giorno e ci vive solo da noi gli invalidi pagano per parcheggiare, lo denuncia, la lista bene comune, Fanesi risponde dell'assessore ci sono però tanti furbeti, a Fano i permessi per gli invalidi sono troppi, soprattutto se confrontati con quelli di altre città, con lo stesso numero di abitanti. Carpi, ad esempio, 70 mila abitanti circa, ha 465 permessi, Fano che di abitanti ne ha 61 mila, nel 2014 ne aveva 2052, 5 volte tanto praticamente, tagliando arancione ogni 31 abitanti. E questa è la prima pagina del Carlino di Fano. Poi all'interno la questione dell'Azimut Benetti, dunque tra l'Azimut e la Carbon Line è fatta, parliamo di cantieristica, parliamo di un'azienda che costruisce yacht, i sindacati però si scagliano contro, è saltato il tavolo regionale e non c'è stata nessuna firma e non hanno dato garanzie secondo i sindacati. Per quanto riguarda il passaggio degli operai, delle persone, del personale che fino a ieri era sotto contratto a Azimut, abbiamo sempre detto che all'incirca parlavamo di 89-90 persone, gli amministrativi restano all'Azimut, mentre 73 operai andranno con la Carbon Line. Fermo pesca invece, fermo pure anche le vongolari, a rischio la navigabilità del porto, l'allarme dei produttori, la sostensione delle attività potrebbe causare un insabbiamento, come dire se non ci si passa più cresce l'erba, di conseguenza nel mare e nel porto canale, se non transitano le barche è facile che poi lì si insabbie tutto e quindi sarà poi un problema riprendere la navigazione quando verrà ripreso e dopo il fermo pesca. In centro storico invece, giovedì 11 agosto c'è un appuntamento che va davvero sempre più alla grande, cioè in giro per Fano, sarebbe in giro per Fano, un itinerario enogastronomico turistico, per chi non lo conoscesse vi invito a guardare su Fano TV in queste prossime ore un promo che spiega nel dettaglio come funziona questa iniziativa, con un biglietto unico da 16 Euro si possono fare tante cose. Sfoglia e Mattarello invece, parliamo di nuove imprese, un nuovo negozio, una nuova iniziativa gastronomica che apre in pieno centro a Fano, nasce pasta della Peppa, lo vedete? La particolarità di questo negozio qual è? Lo si vede da questa fotografia, praticamente è un po' come un reality show in via Cavour, cioè chi passa di lì vedrà questa signora che fa la pasta tirata a mano, come si faceva una volta ed la pasta firmata appunto, pasta della Peppa. Andiamo adesso nella pagina di Fano e Valle del Cesano, invece per a Mondavio parlarvi di una rievocazione storica che è arrivata a quota 57, è la caccia al cinghiale, il cui programma è stato presentato ieri mattina dal Presidente della Proloco di Mondavio, Claudio Goffi. È un'iniziativa che ormai si ripete da appunto 57 anni, Mondavio rievoca l'arrivo del Duca e della Rovere tra tradizione ed effetti speciali, il banchetto rinascimentale senza posate, poi lo spettacolo con 40 figuranti e infine lo spettacolo dei fuochi d'artificio, che è uno spettacolo davvero incredibile, tutto da vedere. E adesso andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, ma come sempre facciamo una piccolissima pausa, alziamo la telecamera e andiamo a vedere che cosa succede questa mattina qui ai bagni Carlo. Vedete, quello è il centro di biologia marina di Fano, mentre da lì si esce dalla passeggiata che porta lungo tutti gli scogli al porto turistico marina dei Cesari e c'è tanta gente che fa questa mattina jogging oppure passeggiate, insomma sono mattinieri. Mentre gli ombrelloni sono tutti aperti, però possiamo davvero contare i bagnanti sulla punta delle dita di una mano, sono 4-5 quelli che riusciamo a scorgere qua mentre siamo seduti nella nostra poltrona, nella nostra postazione. Non c'è ancora nessuno, il bar è ancora chiuso mi pare, sì, infatti è ancora chiuso, c'è un silenzio quasi irreale per essere in spiaggia. Qualche barchetta, la vedete, non so se l'operatore Filippo Pucci riesce a inquadrarla facendo uno sforzo non da poco con lo zoom della telecamera, ma ciò va qualche barchetta a largo, ma bellissimo l'effetto del mare, le luci luccicanti del mare che riflettono ed è uno specchio davvero oggi, molto bella, una giornata di mare strepitosa. Torniamo sui giornali, la rassegna stampa prosegue con la lettura dei titoli del Corriere Adriatico, eccolo qua, il Corriere Adriatico che anche oggi ha deciso di mettere in apertura in primo piano la questione dell'ospedale unico. È arrivato anche il via libera del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il quale dice che ora la scelta tecnica ci sta bene, l'accetteremo, però decida presto la Regione perché abbiamo perso troppo tempo, abbiamo già perso 10 anni e di fatti nella pagina immediatamente successiva alla principale, eccola qua, vedete, c'è il rendering di quello che dovrebbe essere tutta la struttura dell'ospedale unico, c'è questo pressing di Matteo Ricci, dice vabbè Google Maps, ci sta bene questo software che decide per noi il posto dove costruirlo, ma la Regione ora si sbrighi. Questa è la notizia che appare in evidenza. E poi entriamo, andiamo velocemente nelle pagine di Fano, ci sono tante pagine sul Corriere Adriatico dedicate a Pesaro. A Pesaro leggiamo soltanto questa, è un intervento di Don Michele Rossini che interviene questa mattina sulla questione del palio dei braceri, mentre dopo oltre un secolo è stata fatta slittare alla prima settimana di agosto quella della festa del Basilico di Santa Veneranda, che non si è svolta come di consueto nell'ultimo fine settimana di luglio, ma inizierà da domani fino a domenica, proprio perché quest'anno c'era questa concomitanza con il palio dei braceri, insomma dice come una kermesse di oltre cento anni deve cedere il passo ad un evento che ne ha solo praticamente sei. Questa è la questione che sta facendo un pochettino discutere a Pesaro. Mentre sulla pagina di Pesaro e provincia vi segnaliamo un'altra truffa, perché come dicevamo ieri presentandovi uno spot, chi in estate non va mai in vacanza sono i truffatori e allora bisogna fare attenzione, i truffatori anzi in estate lavorano ancora di più. Scusa, conosci questo gioco e gli strappa la collanina d'oro. È successo ad un turista svizzero, Agabic, arrestato e rimesso in libertà, un magherbino. Andiamo adesso nella pagina dello sport, Fano Sport, per leggervi il titolo che riguarda l'alma, l'alma che è in serie C, istruzioni per l'uso, tante novità per il ritorno in Lega Pro, ecco come ricaricare o rinnovare la supporter card e muoversi per i biglietti senza spendere di più. Su SportTube sarà possibile abbonarsi e vedere in streaming tutte le partite dei Granata. Autostrade, opere per 63 milioni, viabilità, la bozza di convenzione tra l'amministrazione comunale e la società arriva in consiglio, ultimo step burocratico, poi via i lavori che prevedono quattro bretelle e uno svincolo all'uscita. In girperfan, grandi numeri per riscoprire il centro storico, Carbo Line arriva a settembre, Azimut Benetti ha comunicato al Ministero i tempi della cessione del cantiere, i sindacati non ottengono la verbalizzazione del loro dissenso, restano i timori per i lavoratori. Sulla Valle del Cesano, colline roveresche, un milione per unirsi dall'Unione al Comune, unico beneficio economici in vista. Mentre a Mondavio si viaggia nel tempo con la caccia al cinghiale, lo abbiamo visto poco fa e poi a Senigallia negoziante, litiga addirittura con un bambino, un ragazzino autistico, prende una caramella dallo scaffale e ne fa cadere altre, il commerciante lo allontana in malo modo, i genitori reagiscono sostenuti dalla folla e sempre da Senigallia è stato preso un pusher, un venditore di droga e la festa va in fumo, arrestato un ventenne bolognese e poi il ricordo di un sacerdote, padre Guido Montesi, era nato 75 anni fa a Corinaldo, la sua missione erano gli ultimi, morto in Africa, padre Montesi. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, rassegna stampa che torna domani mattina come sempre puntuale alle 7.30 sul canale 17 di Fano TV. È tutto, qui dai bagni Carlo in Sassonia di Fano, la nostra rassegna stampa On The Road che continua anche nella giornata di domani, forse, sempre se il tempo ce lo permetterà. Noi ci salutiamo qui, vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.